ok noi siamo i reloaded facciamo hard rock cover sostanzialmente siamo andati nel 2008 dopo vari cambi di formazione siamo arrivati a questa formazione originale che è composta da stival bass andrea la chitarra manual batteria e luca a voce noi facciamo hard rock dagli anni sessanta ad oggi stasera è la prima volta che suoniamo a saronno e soprattutto in una collocation così bella stasera faremo il nostro repertorio sarà composto da pezzi degli animals dagli animals ozzy osborne i kiss e si dissi fino arrivare metallica ma la benda in realtà è una benda che dal 2008 a quest'oggi ha girato praticamente il nord italia passando prevalentemente quella che è la lombardia como monza brianza lecco le province preferite diciamo con quanto meno quelle con la maggiore richiesta fino andare in piemonte veneto e anche qualche puntata alla valle d'aosta con aosta come come paese la svizzera è qualcos'altro come occasionale data che può venire fuori adesso a breve partirà quello con questa serata quanto meno quello che la parte estiva che si protrerà sino a inizio settembre circa con le ultime date prima di rientrare in quelli che sono i locali abituali e non che vengono che vengono tramite agenzia o direttamente insomma lo show di reloaded è un progetto basato diciamo sull'hard rock classico tradizionale quindi questo vuol dire chitarra manetta batterie basse tutto manetta cantante super capito presenza sul palco come anche tutti quanti del resto uno show molto coinvolgente proprio è diretto senza troppi fronzoli o produzioni particolari ecco diciamo una cosa proprio classica tradizionale che è la musica che tutti quanti noi quattro amiamo fin da qua che abbiamo sempre ascoltato fin dalla nostra infanzia così e basta per adesso stiamo andando veramente molto bene per cui buon concerto a tutti per quelli di tutti colori che avranno la fortuna di partecipare allora io volevo presentare il sito della mia band reloaded che è reloadedhr.it andate seguiteci per i nostri live sia estivi che invernali siamo in giro per fare delle date adesso la tranche estiva poi riprenderemo nei locali no era solo una precisazione sul discorso del sito perché il sito è www.reloadedhr.it dove HR sta ovviamente per hard rock che è il genere principale che che trattiamo e che che portiamo avanti come come tributo diciamo poi manuel tu volevi per caso fare una chiusa sull'intervista giusto sì ma io ci tenevo a ringraziare l'organizzazione di questa di questa bella festa in questa in questa cesare in questa bellissima location speriamo che arrivi un bel po di gente perché il posto merita veramente stanno adesso stanno montando l'impianto e tecnici il nostro concerto inizierà alle 20 giusto i 20 20 30 20 20 30 e niente speriamo che la gente che verrà si divertirà